Parla tifoso dell'Azzurra! Eccoci ancora una volta qui, per portarvi le ultime novità direttamente da dietro le quinte del nostro amato club. Come sempre, prima di iniziare, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun dettaglio sul Napoli. Oggi porto notizie esclusive che sicuramente entusiasmeranno i fan. Sembra che la squadra si stia muovendo con largo anticipo per la prossima stagione, con il chiaro obiettivo di portare rinforzi di alto livello per rinforzare la nostra rosa. E una delle priorità è trovare un difensore centrale di qualità per rinforzare la nostra difesa. Secondo le informazioni del portale Turco Fanatic, il Napoli avrebbe già raggiunto l'accordo con Viktor Nelson, il talentuoso difensore centrale danese che attualmente gioca nel Galatasaray. A soli 25 anni, Nelson ha già annunciato la sua partenza dal club turco, facendo capire di essere pronto per una nuova sfida nella sua carriera. L'entourage di Nelson si sarebbe già incontrato con il management italiano, dimostrando un reciproco interesse a chiudere la trattativa. Nonostante il Galatasaray chieda 15 milioni di euro per il trasferimento del giocatore, il Napoli non ha ancora preso contatti ufficiali con il club turco. Tuttavia, tutto indica che questo accordo potrebbe essere il primo di molti per il nostro club prima dell'inizio della prossima stagione. E adesso, amici miei, aspettiamo di vedere se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori conferme su questa entusiasmante trattativa. Ma tu, cosa ne pensi del possibile acquisto di Victor Nelson? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità del Napoli. Forza Napoli sempre!